Due soli gli assenti in occasione della sfida delle 15 tra Sampdori e Juventus, Marco Giampaolo è costretto a rinunciare al portiere Viviano, squalificato. Mentre Max Allegri deve fare a meno di Medi Benatia, infortunato. Recuperato Giorgio Chiellini ma il difensore andrà in panchina. Occhio ai diffidati bianconeri, il prossimo incontro di campionato sarà con il Napoli, Bonucci, Rugani, Chiellini, Rincon e Piani. C. Marco Giampaolo sceglie Linetti e non Pretti in mezzo al campo. Per il resto, nessuna novità rispetto alle indicazioni della vigilia, saranno Miuri e Lequagliarella a sfidare la difesa bianconera. Tutto confermato nella Juventus con Rugani e Barzagli al centro della difesa e con Dani Alves e Asamoa sugli esterni. Panchina per Marchisio, in mezzo al campo c'è spazio per Piani c'è Chedira. In avanti confermate le 4 stelle, Sampdoria Juventus 0-1, tabellino marcatori, 7 minuti quadrado, J. Sampdoria, 4-3-1-2, Pugioni 7, Sala 5, Scrinier 6, Silvestre 6, Regini 5, Barreto 6. Torreira 6,5, 18 minuti Praet 6,5, Linetti 6, Bruno Fernandes 5, 8 minuti St. Schick S. V. 30 minuti St. Diuricice S. V. Muriel 5,5, Quagliarella 6, in panchina, Falcone, Krapikas, Simic Pavlovich, Dodò, Beres Zinski. Palombo, Cigarini, Alvarez, Budimir. Allenatore, Giampaolo Juventus, 4-2-3-1, Buffon 6, Dani Alves 6, Barzagli 5,5, Rugani 6, Asamoa 6,5, Chedira 6,5, Pianic 6,5, Quadrado 7, 28 minuti St. Lemina 6. Di Boa 6,5, 27 minuti P. T. P. H. 6, Mandzukic 6, E. Guain 5, 40 minuti St. Liechtsteiner S. V. In panchina, Neto, Audero, Bonucci, Chiellini, Alexandro, Marchisio, Rincon, Sturaro, Con. Allenatore, Allegro. Grazie. Grazie.